Buonasera mister, siamo a 45 minuti al 29 di gennaio, le chiedo molto onestamente cosa si prende dal mercato, niente, posto così, grazie. Ragazzi buongiorno, buon inizio settimana, se così si può definire dopo l'ennesima prestazione partita della Fiorentina che esce sconfitta ma con gli applausi. E' una mattina, è prestissimo ragazzi, sono le 7.30 del mattino, sono già in piedi dalle 6.30 io, mi auguro che lo stesso abbiano fatto Barone, Pradè, Burdisso perché oggi c'è da stringere il calcio mercato ragazzi, oggi è giornata di calcio mercato, in questa giornata del giorno dopo di Fiorentina Inter 0-1 gol di Lautaro, blocco non blocco, gli alleno non gli alleno i blocchi, non si possono fare calcio rigore sui ranieri, rigore sbagliato di Nico, paratona di Somme su Buonaventura, tutto quello che volete ragazzi, però questo è il giorno dopo, è il giorno dopo di niente a posto così. Ho iniziato il video in questa maniera, in copertina, non potevo che non mettere Vincenzi italiano con l'espressione alla domanda sul mercato. Ragazzi dovete capire una cosa, che qua si sta rompendo il giocattolo, ok? Qua stiamo rivivendo 2016-2 la vendetta, non c'è Paolo Sosa, non abbiamo Babacari in attacco, non c'è i Della Valle alla presidenza, ma abbiamo un Zola all'attacco, abbiamo in panchina Vincenzo Italiano che in questi anni ha portato la Fiorentina in alto rispetto alla squadra che forse ha e abbiamo una presidenza americana. Buongiorno, mi invito a iscrivervi a questo canale di YouTube Mister Viola, attivate la campanella, tanti like, come sempre condividete questo video a tutti i vostri amici tifosi Viola, commentatelo ragazzi, in link in descrizione, Instagram e Facebook sono gli altri i miei due social e poi gli amici di Space Viola. Allora, niente a posto così, Vincenzo Italiano glaciale, ci sono 0 gradi, o meglio stamattinando sono uscito di casa e era meno 1, quindi il video tra l'altro e la temperatura è perfetta, cioè ieri sera glaciale Vincenzo Italiano sulla domanda del mercato, poi ha parlato anche della partita che dispiace perché ora c'è la maledizione dei calci rigore, ieri Nico l'ha calciato malissimo, io ve l'ho raccontato anche ieri, ho visto un Nico molto nervoso davanti alla Fiesole, tornava dopo due mesi, era pesantissimo quel calcio di rigore, forse forse avrebbe dovuto calciarlo qualcun altro, la gerarchia è stata ristabilita, ragazzi i calci di rigore, gerarchia non gerarchia che io sono per la gerarchia, li deve calciare chi se la sente, un rigore così pesante, un ragazzo che entra dopo due mesi, sa che tutta Firenze l'ha aspettato, ha calciato poi la cosa mi fa nervosire di più ragazzi, tutte le volte che noi calciamo i rigori e ce li parano, la risposta del portiere è, avevo studiato Nico Gonzale, avevo studiato i rigoristi della Fiorentina, quando invece a noi ci capitano i calci rigore contro, Terracciano ne para uno su 57, ma non dirà mai avevo studiato come calcio, perché effettivamente l'ho detto ieri sera, Nico Gonzale l'ha battuto nello stesso modo come l'ha battuto sempre in tutti i calci di rigore, è anche vero che 10 su 10, ieri sera purtroppo l'undicesimo ha interrotto la striscia positiva dei calci di rigore, ma non è solo il calcio di rigore ragazzi, perché se andiamo a vedere la prestazione dell'Inter, che aveva Aslani, che non è mai un titolare, Frattesi, che non era titolare da forse due mesi e mezzo, assente Barella e Ciannogo che sono giocatori a centrocampo importanti, è anche vero che se Turam non incespica da solo, capace fa il 2-0, quindi di occasioni poi l'Inter ne ha avuto il salvataggio miracoloso su Frattesi, se non sbaglio, di Martinez Quarta, insomma, ieri l'Inter ha dimostrato che qualità tecnica li compri sul mercato, è anche vero che noi non abbiamo i soldi dell'Inter e su questo siamo d'accordo, però ieri sera il commento che ho fatto sul gol di Lautaro Martinez, che attacca il primo palo, Nzola va a fare l'uomo sul primo palo, in realtà è due metri staccato dal palo, quindi uomo sul palo, vediamo, lui deve cambiare il movimento in base alla traiettoria del pallone, cioè un giocatore macchinoso, lento come Nzola, che si muove anche male, mi va a fare questo ruolo di palo in cui deve avere un cambio di direzione in base al pallone, ragazzi, ma ci metti un altro, ci metti Ranieri, o magari non metti Parisi su Lautaro, ci metti uno più fisico, magari puoi fare l'esatto opposto, anche se Parisi non è altissimo, metti Parisi sul palo, che magari ha un'elevazione e Nzola lo mette a marcare Lautaro, magari il blocco con Zola non lo fa, però al di là di questo ragazzi, la risposta sul mercato è la cosa che mi fa preoccupare di più di ieri sera, perché io penso che l'italiano sia stato ripreso dalla società, questa è la mia opinione, io penso che l'italiano abbia sempre esposto il suo rammarico, il suo problema, cioè qualcuno cambierà aria, là davanti dobbiamo fare qualcosa, serve qualità, i goal, bisogna migliorare l'attacco, queste cose qua, e io penso che abbia poi ovviamente aizzato buona parte di Firenze dicendo, oh ma sta società e mercato lo fa o non lo fa, e quindi sembra quasi che l'italiano abbia detto, sul mercato non parlo più, no comment, non rispondo sul mercato, come se qualcuno gli avessi detto, te pensa a fare l'allenatore, te pensa ad allenare, che al mercato ci si pensa a noi, ecco, io l'ho vista così, poi uno mi potrà anche dire, è giusto, lui fa l'allenatore e deve allenare, però da che mondo è il mondo l'allenatore fa delle richieste, un allenatore che è quarto in classifica, non più quinto, a due punti dal quarto posto, ma forse la dimensione reale della Fiorentina, cioè perché noi poi a Firenze ci piace sognare, ci piace vedere che la nostra squadra è da Champions League, ragazzi la nostra squadra non è da Champions League, probabilmente forse non è neanche da Europa League, è una squadra che ha avuto sicuramente un filotto di partite fortunoso, dove veramente facevi un tiro in porta in tutta la partita e facevi gol e quegli altri tiravano tre o quattro volte e Terracciano faceva due o tre miracoli a partita, quindi Sanculo, io l'ho detto ragazzi, Sanculo è un po' che ci ha abbandonato, ieri sera Sanculo è venuto fuori, è anche vero che giochiamo contro l'Inter con Buonaventura, Lanzola, esterno d'attacco, cioè capite bene che un allenatore a un certo punto dice porca miseria sto facendo di tutto e di più, non mi avete preso nessuno per questioni extra calcistiche, stadio, politiche, cazze e mazzi e un allenatore ci rimane male perché dice non apprezzano, cioè non viene apprezzato neanche il mio impegno nell'ingegnarmi a far girare questa squadra, che poi paradossalmente ieri la Fiorentina non ha giocato male, ma ha giocato la solita partita, ha giocato la solita partita fatta di occasioni non concretizzate, ha detto anche l'italiano, abbiamo tirato molte volte ma tutti i tiri di Nzola sono stati murati, ma perché questo? Perché Nzola è macchinoso, è lento nel girarsi e sbaglia anche le scelte ragazzi, è emblematico, spalle alla porta, Beltram e Buonaventura agli esterni, ti basta scegliere a chi darla e quello è un gol, ragazzi e quello è un gol, no preferisci girarti, ci metti un quarto d'ora, calci, poi viene deviato, parata il portiere, capite bene che c'è qualcosa che non funziona, perché questo? Perché poi diventa quasi una sfida con se stessi, Nzola adesso in questo momento vuole fare gol a tutti i costi, Beltramieri non ha girato, si è mosso meglio Nzola da esterno che Beltram da attaccante, capite bene che non azzecchiamo mai le prestazioni giuste in maniera corale, poi il rigore sta diventando una maledizione, occhio, occhio ragazzi che poi qui va a finire che nessuno segna più e poi è emblematico il concetto che a un certo punto l'italiano ha dovuto mettere Milenkovic come punta, capite bene che è una squadra completamente distrutta a livello di qualità, a livello di numerazione di uomini e non è possibile che un allenatore, e questo è la mia opinione, venga ripreso dalla società dicendo testa il sito sul mercato, pensa ad allenare, lì ci pensiamo noi la squadra è competitiva detto da uno ragazzi che ha fatto il dirigente sportivo ai Cosmos, io con questo non voglio criticare la società, però ragazzi è in dubbio, bisogna essere oggettivi, bisogna essere sportivi, qui la società sta sbagliando alla grande, poi che siano tutti contenti che ci sia una società americana, che i conti sono a posto, però sul calcio in questo momento stanno sbagliando, hanno fatto tante cose buone e le abbiamo sempre elogiati, il centro sportivo, la Fiorentina dopo tanti anni torna in Europa, due finali, una della Coppa Italia più facile, l'altra ce la siamo battuta, ce la siamo giocata, però ci sono giocatori che l'italiano non vede più, Barak entra sistematicamente, entra gli ultimi 10 minuti della pari, Barak l'italiano non lo vede più, Infantino che fa sto ragazzo? capite bene che c'è stato veramente un errore grossolano di tutta la diligenza a livello di mercato, grossolano, Arthur non gira più come prima, sembra che abbia consumato tutte le pile o che anche le sue voci su una possibile permanenza o meno l'abbiano disturbato, paradossalmente ieri Giacomo Bonaventura ha fatto un'ottima partita nonostante questo rinnovo ed è un professionista, però non è il suo ruolo, Iconè che tu lo avvicini alla porta e lo allontani non cambia niente, però lo difendi dicendo Iconè non si muove, quindi veramente ragazzi la situazione è grave, la situazione è grave, non facciamo finta di non vedere e non facciamo finta di dire ma sì ma tanto, no la situazione secondo me è molto grave, perché io vedo un allenatore che in questo momento è sconfortato e vedo una società che continua imperterrita nella sua strada o paraocchi e non dice ok fermi c'è il calcio giocato che in questo momento ci stiamo completamente dimenticando, questo è quanto, forza Viola e buona settimana a tutti, sperando di qualche info sul mercato anche se non è che se domani mi annunciano Ruben Vargas faccio i salti di gioia, poi magari è un fenomeno però i nomi che ci ricordano, ora è il ritorno di moda Belotti, io ripeto ragazzi io Belotti lo vado a prendere subito, lo vuoi appigliare subito, questo è quello che dice Mister Viola, buona giornata a tutti e forza Viola